Una città a misura dei più piccoli con la promozione di politiche a sostegno dell'infanzia attraverso l'ascolto e la denuncia delle criticità esistenti. Da questi principi è nata l'associazione Termoli per i bambini, iniziativa partita da una giovane mamma termolese, Simona Barone, e dai genitori che hanno aderito a un progetto lungimirante e carico di aspettative. Il gruppo si è fatto conoscere in piazza Monumento per raccogliere proposte e adesioni. Per raccogliere più adesioni possibili, per dare nuovamente vita a Termoli per i bambini. Termoli ha bisogno di tutte le adesioni di tutti i genitori, zii, nonni e tutte le persone che amano i bambini. Siamo stati qui in piazza e abbiamo avuto un sacco di gente che si è fermata e hanno avuto ottimi riscontri. Tra le varie finalità dell'associazione ci sono l'abbattimento delle barriere architettoniche, e la diqualificazione delle aree verdi esistenti e la creazione di nuovi spazi nei quartieri che ne sono privi. Inoltre si punta su una cultura della sicurezza del bambino, dalle scuole al resto della città e su misure dedicate all'infanzia e con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale. Non mancheranno altre iniziative per continuare la raccolta di proposte e adesioni all'associazione presente anche su Facebook con la pagina Termoli per i bambini.